Dopo Cervi e Cusin, Kikanovic, come se non bastassero le battaglie della recente appassionante semifinale play-off, Reggio Emilia Vellino si sfidano anche sul mercato. Quello dei lunghi in particolare, secondo Radiomercato, di fatti il derby sui centri azzurri avrebbe aperto una sorta di asta per il 28enne centro bosniaco che comunque non fa perdere il sonno a coach Sacripanti e al suo staff. La firma di Lawal a Cantu significa due cose che la concorrenza rimane spietata e che forse la Scandone vuole una tipologia di giocatore un po' più tecnico della gazzella nigeriana. Una alla buva per intenderci in grado di muovere la palla e produrre molto sotto canestro oltre che stoppare e tirar giù rimbalzi. Ma si ha la sensazione che la campagna acquisti della Silicas Rute al momento attorno agli esterni il DS Alberani cerca la guardia e l'alla piccola titolari più il loro cambio naturale. La sensazione è che almeno un paio delle tre operazioni necessitino di tempo. L'innalzamento del salari cap, il monte stipendi della NBA, ha reso tutto più difficile e meno rapido, come confermato dalla terza visita americana del dirigente erpino e in generale dagli addetti ai lavori. Staremo a vedere perché sull'argomento la curiosità cresce e queste scelte, probabilmente, condizioneranno parecchio l'annata erpina. Intanto la FIBA ha ufficializzato le partecipanti alla neonata Champions League del basket e stabilito un premio in danaro di 100.000 euro. Tutt'altra cifra rispetto alla ricchissima Eurolega o alla discussa Eurocup, ma ovviamente è già qualcosa. Un lotto di squadre di alto livello che regalerà ulteriore prestigio e spettacolo all'attesissima stagione della consacrazione avellinese.